La TikToker Isame l'ha caricato nelle scorse ore un divertentissimo video, già visualizzato migliaia di volte su TikTok e diventato virale in men che non si dica, dove possiamo notare tutte le innumerevoli e particolarissime pettinature del corteggiatore di uomini e donne, Armando incarnato. La clip, qui la potete recuperare, è stata ripresa anche su Twitter da alcune utenti, regalando ulteriore fama ad un video che aveva fin dalle premesse tutte le caratteristiche giuste per essere ricondiviso da centinaia di utenti. La ragazza ha un canale basato interamente sulla trasmissione di Maria De Filippi, che prende ironicamente in giro caricando spezzoni delle puntate, compilation, montaggi e chi più ne ha più ne metta. Quando un'altra ragazza ha chiesto a Isame di creare un mashup con tutte le pettinature di Armando nel corso degli anni, la TikToker non si è certo tirata indietro. Isame l'ha così messo insieme una valanga di vecchi video dove il corteggiatore sfoggiava un'infinità di, bizzarri, tagli diversi. L'utente ha poi condito la clip con I'll be there for you, storica sigla del serial Friends, come colonna sonora. Il risultato finale è a dir poco da applausi. Nel video, Armando viene accostato, nell'ordine, a Demon Salvatore di Vampire Diaries, Aladdin, Dua Lipa, Lucifer, David Beckham, Giordana Angie, Edward Calendity Twilight, Antonello Venditti, Orlando Bloom e John Wick. Questa, tra l'altro, non è certo la prima volta che Armando viene preso in giro dal web per le sue scelte di stile, come dire, originali. Ti ringrazio per aver guardato tutto il video se ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale, e attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato nei prossimi video grazie.